Sindaci in rivolta contro la manovra economica. Il decreto legge varato dal governo nei giorni scorsi prevede infatti la soppressione e l'unione municipale dei comuni sotto i mille abitanti. A rischio nella provincia di Ancona i comuni di Poggio San Marcello e San Paolo di Iesi. Supprimere un comune o farlo accorpare è una manovra epocale e di grande difficoltà. Nel caso di specie nostro leggendo bene il dato normativo non rientriamo nella manovra finanziaria bis perché non abbiamo comuni con termini tant'è che la preoccupazione nostra dei comuni della media vallesina è stata proprio quella di costituire un'unione dei comuni della media vallesina che potesse consorziare gran parte dei servizi nel nostro territorio. Il decreto comunque non è ben chiaro e presenta alcune lacune normative. Vi è una lacuna della legge laddove ad esempio non viene a disciplinarsi il fenomeno come il nostro come Poggio San Marcello che già aderisce a un'unione dei comuni della media vallesina. Quindi a che titolo andrà a far parte di un'unione municipalizzata con un comune pari o inferiore ai mille abitanti che è confinante. Quindi questi sono interrogativi e delle lacune che la normativa lascia. In questi giorni si susseguono i tavoli di confronti tra il ministero e l'Anci per definire la questione. Sarà solo un fuoco di paglia?